C'è un giorno studiato dei formicai, il modo con cui queste formiche cercano il cibo lasciano per terra una traccia, sono capaci in natura di trovare il percorso più corto tra due punti, unicamente lasciando per terra questo feromone. E lì è nata questa ispirazione che ha poi portato a costruire questi algoritmi e questo sistema fortunatamente funzionava così bene che io ho fatto un po' di carriera scientifica guidata da questa ispirazione delle formiche. L'arte influenza molto il lavoro della nostra IPSA Foundation perché abbiamo realizzato nel tempo che le attività artistiche hanno quella capacità di tirare fuori le emozioni, proprio quella possibilità di avere un effetto positivo sul benessere delle persone. Noi, gli artisti, tutto il mondo, tutti quelli che sono interessati, sono interessati in un'esperienza diretta. Tutto il pubblico era contentissimo di poter tornare nelle sale, essere in presenza diretta con le sculture, con i dipinti, con i disegni, con le opere. È importante fare cose, è più importante farlo e poi capire se ti piace o non, e poi puoi continuare. Io vedo con i miei studenti, per esempio, che molti volte hanno idee e stanno in queste idee, e poi puoi parlare di idee, ma è molto meglio parlare di qualcosa che esiste. Quello che si studia oggi non è per forza quello che verrà fatto domani. Ci vuole metodo, ci vuole rigore, ci vuole passione, e secondo me è importante che i giovani capiscano di fare le cose per cui hanno passione. Do what you like, it's really the best advice. Un'attività artistica segue una serie di processi che sono quelli di un lavoro scientifico, quindi c'è in comune, hanno la preparazione, le competenze, il disegno del piano sperimentale. La commissione fra intelligenza artificiale e arte è molto forte. La fase dell'ispirazione è molto comune allo scienziato e all'artista. Provare nuove idee, però con una gamba solida, è l'altra un po' che esplora. Per gli artisti oggi spesso la scienza è una parte integrale del loro lavoro. L'intelligenza artificiale la vedo come una gran straordinaria risorsa per avere più tempo da dedicare invece alla creatività, all'ingegno, all'idea. Sono abbastanza oltre a ricordare il mondo prima dell'internet e ho comprato un libro costantemente per avere accesso a tutte queste iconografie e immagini e l'internet ha totalmente cambiato questa relazione. L'idea che un'opera d'arte è diversa dall'inizio della mostra alla fine della mostra perché ha imparato il modo di porsi degli spettatori, i gusti che hanno mostrato, come si sono posizionati, è una cosa che mi affascina molto. Alcune delle attività di IPSA Foundation saranno dedicate sempre di più anche a questo tema e a quanto l'umanizzazione comunque sarà sempre importante e come un po' per gestire questo rapporto uomo-macchina.